Che tipo di reazioni avete avuto da parte del pubblico sulla qualità dell'informazione che globalmente è stata data? Credo che i nostri telespedatori, ma anche coloro che seguono il giornale radio della Toscana, che poi è la trasmissione più seguita quotidianamente, siano abbastanza soddisfatti del tipo di informazioni che noi stiamo... Ma loro cosa chiedono di più? Sicurezza? Sì, ecco, vorrebbero capire quando vengono indicate le persone che sono arrestate con delle imputazioni molto gravi, come quelle che abbiamo citato appunto nella scheda preparata e data prima, come mai non viene riconosciuto da parte eventualmente degli inquirenti l'errore fatto? Ecco, non si può domandano, ma queste persone sono state poi prosciolte definitivamente quando lo potranno essere? Perché alcune di queste persone sono state scarcerate ma formalmente risultano ancora imputate di delitti, per esempio quello del 1968. Comunque questa forse posso girare la domanda al, soprattutto al procuratore Pierluigi Vigna. Ecco, l'ultima domanda, proviamo proprio per chiudere perché è mezzanotte. Prego. Dunque qui la complica... Ecco, se lei, ecco, è probabile noi abbiamo un pubblico molto vasto, quindi forse poi c'è anche chi ha commesso l'assassino, ma al di là di questo, ecco, l'ultima raccomanda che lei darebbe. Ecco, bisogna parlarne poco, parlarne in modo giusto, è giusto che la gente sappia? Questa è una delle questioni più delicate che abbiamo davanti, tutti. Io penso che in questo caso, come in altri fenomeni di criminalità, non serva a nulla o a ben poco staccare la corrente. Bisogna parlarne, bisogna parlarne nel modo corretto, quindi senza plausi, senza creare così dei miti intorno alla persona, ma cercando, se possibile, di comprendere anche il suo agire. Bene, noi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato da vicino, da lontano, telefonicamente, con la loro presenza alla trasmissione e vi annunciamo una cosa, lo speciale Tg1, che già diciamo nel suo titolo è speciale, andrà in un'edizione straordinaria sabato prossimo alle 22 circa e avrà come tema un problema importantissimo, quello del AIDS, AIDS, come tenteremo di spiegare con la partecipazione di illustri clinici italiani e stranieri, ci collegheremo anche con Parigi, con l'Istituto Pasteur di Parigi, avremo il direttore dell'Istituto Pasteur, oltre ad avere ovviamente i nostri clinici, i nostri scienziati, ci collegheremo con ospedali, vedremo cosa è successo negli altri paesi, tenteremo di capire come si sviluppa questa malattia, come ci si difende, perché è scattato quest'allarme, perché si è scatenato intorno a questo problema anche una strana campagna, certamente come qualcuno l'ha detta di colonna infame, alcuni hanno detto la peste, insomma tenteremo di far chiarezza in un'ora su questo problema così scottante, quindi vi diamo appuntamento per questa settimana sabato prossimo, poi riprendiamo invece il nostro ciclo dello speciale Tg1 come sempre ogni lunedì, vi ringraziamo per l'attenzione e buonasera, adesso linea al telegiornale, grazie.